Un segreto come quello degli extraterrestri non può perdurare per 50 anni e più, ma noi ce l'abbiamo sotto gli occhi, sotto gli occhi di tutti gli abbiamo segreti di Stato che vanno avanti da oltre 50 anni. Quindi, come dire, ci sono i segreti che riescono a che… È come il segreto, Francesco, dei bambini che nascono sotto i cavoli. È uguale? Sì, sì, assolutamente. Cioè, la testa delle persone, purtroppo anche di molti miei colleghi ricercatori ufologi, è che disperatamente stanno cercando la conferma dall'autorità, il che è una mera sciocchezza. Assolutamente. Ma come può l'autorità, che è quella che è in visa a questa realtà, ammetterti che è vera? Quindi inseguono schemi e valori che sono distorti e sciocchi. Il sistema mai ammetterà. Quindi l'ufologo, tra l'altro, compiendo un vero salto mortale, triplo carpiato, quindi interessandosi dell'ufo, ma mai andando a indagare il pilota dell'ufo, sono 70 anni che l'ufologia cosiddetta scientifica è una ufologia corbelleria. Ma scusa, se c'è una macchina che ci vuole Gesù Cristo o una schiera di scienziati a livello di Einstein per capire che se c'è una macchina c'è un pilota, c'è un progettista, una fabbrica che l'ha costruita, una gerarchia che l'ha inviata. Invece l'ufologia deficiente, per darsi un crisma di presunta scientificità, è un pollaio di dementi che inseguono cose assurde, tra l'altro vantandosene. Ma noi siamo l'ufologia scientifica. Ma di che? Se sono 70 anni che vediamo mezzi che si muovono in modo intelligente, persino i militari lo ammettono e questi, quando parli la parola extraterrestre, si stracciano le vesti. Ma che ci vengono a fare questi extraterrestri? L'hanno detto chiarissimamente. Però, siccome sono codardi e siccome sono vigliacchi, quando sentono la parola etica, spiritualità, Gesù Cristo, se la tappano perché hanno vergogna, paura e sono vigliacchi nel sostenere e indagare scientificamente e segneamente una verità che non vogliono accettare e che è sotto il naso di tutti. Questa è la verità tristissima di una storia ridicola, di un'avventura che non giunge a buon fine, quando la verità è sotto gli occhi di tutti e è sotto gli occhi di tutti nelle scritture, nelle traduzioni, nei quadri sacri medievali, la ritroviamo dappertutto, nei caffitti rupestri, nelle grotte di niodi, cioè le ritroviamo dappertutto e quindi, ma di quale mistero stiamo parlando? Il problema è solo uno, che in questo pianeta di gente veramente intelligente e con le palle ce n'è molto poca, il resto sono un codazzo di galline che starnazzano secondo quello che gli viene detto di fare. Tra l'altro auto-eleggendosi e ammantandosi di presunte autorità scientifiche che non hanno mai avuto, perché tutto è il loro operato tranne che scientifico, perché nel momento in cui tu neghi un'evidenza solo per preconcetto, ci si è di essere uno scienziato e sei un incapace, un inetto che non arriverà mai alla verità. Grazie a tutti.